Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione Physiolife del dottore Eugenio Muzzi svolge attività di prevenzione, cura e riabilitazione dalle disabilità motorie, psicomotorie, cognitive, ortopediche, sportive traumatiche e post-traumatiche. Si avvale di un'ottima preparazione teorica e pratica in continuo aggiornamento per offrire ai pazienti la massima professionalità e competenza nel settore, in ambulatorio e a domicilio. Il tutto con diverse attrezzature e apparecchiature all'avanguardia. Onde d'urto, tecarterapia, tapping neuromuscolare, criocompressione e altri. Specializzato in riabilitazione sportiva a Coverciano, già fisioterapista del Catanzaro Calcio e della Vigor Lamezia. Il dottore Muzzi riceve per appuntamento e per una diagnosi in loco presso lo studio in via Pitagora 3 a Davoli Marina. Per info 0967 70 559. Non proprio una finale da ricordare, quella per la Coppa Calabria tra Praia Tortore e Ravagnese, disputata al Catania di Pianopoli. Brutto gioco, tanta tensione, tanti falli, tanti ammoniti, cinque espulsi, tra questi Ventura e Aquilino dalla panchina e pochissime azioni degne di nota, almeno fino alle fasi conclusive dei tempi supplementari. Ma andiamo per ordine. Regini che hanno già vinto il proprio girone, quindi senza dover pensare ad altro che non fosse questo match. Cosentini, al contrario, il loro girone lo devono ancora vincere e le ultime gare non saranno certo delle passeggiate. Anzi, si parte sotto la direzione di gara del signor Graziano di Rossano e per vedere la prima occasione degna di nota si fa per dire bisogna attendere la mezz'ora del primo tempo, quando Gentile, per il Praia Tortora, pennella questo calcio di punizione, con un compagno totto solo in aria libero di colpire, ma la cui conclusione è alta. Cinque minuti dopo risponde il Ravagnese, con De Stefano che lascia partire questo bolite dal limite, ma Marino si distende sulla destra e devia in corner. Al quarantunesimo ecco l'episodio che lascerà il segno. De Stefano a questa reazione con un calciatore avversario, proprio davanti al collaboratore di gara dell'arbitro, il quale fa capire allo stesso assistente quanto avvenuto ed è rosso diretto. A questo punto si pensa a una gara in discesa per l'undici Cosentino e invece, proprio sul finire del tempo, ecco il gol Reggino. Calcio di punizione dalla destra, alla battuta si presenta Minniti, la cui sfera raggiunge Vigoroso, che tutto solo, al limite dell'aria piccola, insacca per l'1-0 del Ravagnese. Nella ripresa non passa neanche un minuto ed ecco l'occasione per il pari. Bianchi buca clamorosamente l'intervento e Ramunno è tutto solo davanti a Comandè, ma anziché calciare Cincischia e così l'azione sfuma. Pari che arriva al tredicesimo. Calcio di punizione dal limite, molto contestato dal Ravagnese, alla battuta si presenta Petrone, la cui conclusione non lascia scampo a Comandè. Rivediamo il bel gesto del numero 10 Cosentino. Risultato dunque sul pari e da qui alla fine del secondo tempo, sul nostro tabellino, ma soprattutto su quello del direttore di gara, finiscono altri due calciatori espulsi. Prima al trentunesimo Bianchi, che lascia i suoi in nove per il secondo giallo per questo intervento sul Ramunno. Quindi, dieci minuti dopo, stessa sorte tocca a Gentile, per aver allontanato in modo plateale la sfera, vedersi sventolare il secondo giallo è anche per lui doccia anticipata. Sul finire di gara, prima Pellicanò di testa, manda fuori. Quindi il nuovo entrato a Tinà, calcio dal limite, ma senza risultato? Si chiude così la gara, o almeno i 90, sul risultato di parità e si va ai supplementari. Nel primo tempo non succede nulla, se non all'ultimo minuto, quando essisca a mandare a lato con questo colpo di testa. Nel secondo tempo invece succede di tutto. Prima il Ravagnese rischia l'autogol, al quarto, su questo calcio di punizione di Petrone. Quindi un minuto dopo c'è il gol del 2-1 Cosentino, con Papa, che di tacco in mischia, batte comandè. Quindi, quando tutto sembra finire sul risultato di 2-1, al centoventiduesimo, ecco che l'arbitro vede un fallo in aria e assegna il penalty al Ravagnese. Dal dischetto, però, Putortì colpisce il palo. E subito dopo arriva il triplice fischio di chiusura. Vince dunque il Praia Tortora, che adesso si proietterà in campionato, mentre tanta delusione in casa Ravagnese, anche se i calciatori reggini alla fine hanno onorato la premiazione degli avversari, dando i giusti meriti all'undici di mister Mantuano. Sentiamo tutto ciò che è successo dopo la gara a cura di Massimo Scerbo. Siamo con Raffaele Papa, capitano del Praia Tortora. Ce l'avete fatta. Il tuo gol è stato decisivo. Le tue emozioni, proprio dopo il fischio finale. Sì, è stata una partita dura contro una squadra molto tosta. Lo sapevamo. Diciamo che qualche episodio ci è andata a favore, con qualche espulsione. Ci abbiamo provato fino all'ultimo. Poi è arrivato il mio gol. Meno male, è andata dentro. Adesso ci vogliamo in questo momento. Complimenti, complimenti. Buona festa. Grazie, grazie. Un presidente! C'è solo un presidente! Siamo con il presidente Massara, del Praia Tortora. Presidente, la sua gioia. Una partita epica, dicevamo, con i protagonisti. Alla fine avete vinto da uno con l'episodio del rigore sbagliato dal Ravagnese al centoventiduesimo. L'abbiamo vista scalmanato, scatenato nei festeggiamenti. Cosa vuol dire per lei riportare il Praia Tortora nel calcio che conta con questo primo trofeo? Dicevo prima, è stata una partita meravigliosa perché nonostante il gioco che forse è potuto sembrare maschio, eccetera, eccetera, ma comunque abbiamo trovato di fronte una squadra che anche il Nove ci ha dato filo da torcere. Se questa partita finiva con il premio per tutti e due sarebbe stata la cosa più giusta. Io auguro al Ravagnese di poter fare lo stesso cammino che abbiamo fatto noi, che cercheremo di fare noi nel prossimo anno e quindi di poterci ritrovare non più in una finale di Coppa Calabria ma magari in una finale di Coppa Italia o perché no nel campionato prossimo di eccellenza. La gioia è immensa perché è una società che è nata da due anni e quindi è chiaro che arrivare ad una finale di Coppa, vincerla anche se in questa maniera lo è ancora di più ed essere pronti anche con due punti che ci mancano, poter fare il salto di categoria, di più non potevamo sperare ma lo devo tutto a questi ragazzi. Io sono uno di loro e per questo forse mi lascio andare in maniera eccessiva ma la partita la sento più di loro, solo che loro vanno in campo e quindi l'adrenalina la consumano e io sono invece seduto e non posso fare diversamente. Sant'Agata è una gara importante ma è una gara che può metterci in promozione ma poi ne abbiamo ancora un'altra. Ci mancano due punti, penso che con sé che sono a disposizione... Siamo con Roberto Mantuano tecnico del Praia Torto, veramente una gara con mille colpi di scena, molto nervosa. Alla fine il colpo di tacco di Papa vi ha regalato questo trofeo. è stata una grande partita, abbiamo incontrato un avversario veramente forte che ci ha messo in difficoltà in parecchi momenti della partita ma noi abbiamo delle motivazioni che le troviamo da dentro che ci portano lontano e ci porteranno lontano. La volevamo e ce la siamo presa perché i ragazzi hanno davvero mostrato un carattere e una grinta importante. Siamo con il tecnico del Ravagnese, il vice allenatore del Ravagnese, Giuseppe Culino, mister. Una partita dicevamo prima con il tecnico del Praia Torto era epica, sotto la pioggia. Voi siete rimasti anche in nove, un po' di nervosismo forse le due squadre ma la posta in palio forse lo richiedeva. Dove pensi che la tua squadra abbia perso questa gara? Hai fatto un sunto esatto, praticamente abbiamo pagato Dazio un nervosismo eccessivo che non ha portato a niente se non a fare danni solamente, anche perché la partita non lo richiedeva, eravamo messi bene in campo, stavamo facendo la partita come giusto che sia, siamo andati in vantaggio in inferiorità numerica e sinceramente non stavo vedendo la mia squadra in difficoltà. Francamente l'episodio della punizione ad inizio secondo tempo, non sto io a giudicarlo, lo lascio a voi il giudizio perché non mi piace parlare degli arbitri, forse ha cambiato un pochino la partita. Sull'1-1 abbiamo tenuto bene il campo, siamo rimasti con una doppia inferiorità, lasciamo stare anche qua, senza piangerci addosso. Abbiamo fatto una grande prestazione, l'unica cosa che rimprovero ai miei perché devo fare solo un grande applauso per tutto il campionato, non solo oggi, soprattutto oggi è stata una partita come hai detto tu epica, l'unica cosa che posso dire ai miei è il peccato, un po' di nervosismo di troppo che non serviva a niente, capisco la finale, ti giochi tanto, non lo metto in dubbio, è una partita unica, però è un peccato che paghi a caro prezzo e noi l'abbiamo pagato a caro prezzo perché avrei voluto vedere la mia squadra giocare l'intera partita a parità numerica e magari staremmo qui a parlare di un'altra partita probabilmente. Dopo siamo rimasti, siamo andati supplementari con pochissime energie, abbiamo preso un gol in una mischia un po' fortuito per il Praia e alla fine abbiamo avuto l'occasione del calcio del rigore dove lì ci può stare, si sbaglia, anche grandi sbagliano, non posso rimproverare niente a nessuno, anzi posso dire solo grazie ai miei ragazzi per quello che mi hanno regalato quest'anno, fiero di loro.